Le sembra, professoressa, che Conte sia, diciamo, non proprio il primo responsabile di quello che lui stesso dice, nel senso che è quello che fa con l'Europa, nel senso che lui sta da almeno un anno giocando un gioco di equilibrio complicatissimo. Prima tra i due vicepremiere e basta, già era complicato. Adesso abbiamo, non soltanto che lui deve discutere con Salvini, che dopo la questione, diciamo, di Sivi ha completamente eliminato, gli ha ritirato qualsiasi fiducia, ma adesso deve giocare su una doppia corda, una con i vicepremiere, l'altra con l'Europa e Tria e Mattarella. Quindi il povero Conte, diciamo, la totale fuffa in cui lui ha elencato Greta, è colpa, sì, di Conte, ma fino a un certo punto, secondo me c'erano dietro 4-5 persone, Mattarella, Tria, esatto, non diamo tutta la responsabilità a uno che conta pochissimo. Non mi piace solidale, ecco, questa è la domanda, mi permetto di sintetizzarla così. Prego, professoressa? Ogni tanto mi sento solidale, poi mi domando, ma gliel'ha ordinato il medico, per quali motivi deve continuare a sostenere un governo di questo tipo?